Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, Cardinale Bagnasco e il Paradiso. Dunque, oggi è lunedì 16 febbraio 2009, ieri domenica 15 febbraio 2009 il Corriere della Sera ha pubblicato una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera dal Cardinale Angelo Bagnasco. Quindi questo video è dedicato al Cardinale Angelo Bagnasco, alla vita, alla morte e al Paradiso. Io sono molto 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 triste perché continua la solita storia delle frasi mozzate. Io non capisco per quale motivo le frasi debbano essere tutte mozzate, non solo quelle del Sommo Pontefice. Quelle del Sommo Pontefice, ho già fatto un video intitolato Vita bene non disponibile. In quel video ho chiarito che è una frase mozzata. Vita non disponibile ma per chi? Per chi? Per un killer che me la vuole togliere? Non disponibile per chi? Per chi? Ho già spiegato che la frase andava completata e che la Chiesa doveva dire il Papa, la Chiesa, i principi di Dio devono dire la vita è un bene non disponibile per chi ce l'ha. E' a disposizione di Dio. Vanno completate le frasi e andiamo, non si fa così, mi date le frasi mozzate, mi date, che uno poi capisce fischi per fiaschi. E qua il Cardinale Bagnasco torna sull'argomento e ti piazza un'altra frase mozzata, tagliata a metà e dice che l'alimentazione e l'idratazione, l'acqua e il pane devono essere dati, debbono essere dati specialmente ai più deboli e ai più indifesi non si possono togliere l'acqua, non si può togliere l'acqua e il pane, soprattutto ai più deboli e più indifesi. Ma è scritto qua, è scritto qua, Cardinale Angelo Bagnasco, Principe della Chiesa, è scritto qua, e cioè che cibo e acqua non si possono considerare terapie straordinarie da poter sospendere. Cibo e acqua, secondo la Chiesa, non sono terapie straordinarie da poter sospendere. La frase è mozzata, è parecchio mozzata, perché andava completata, siccome il Parlamento si accinge a varare quella che sarà una delle più infami leggi della nostra Repubblica, sul testamento biologico di cui ho già parlato, a Iosa, di cui cari amici sapete tutti come stanno le cose, e quando aveva precisato Cardinale Bagnasco, lei è un uomo di cultura, doveva dire che le terapie straordinarie, che l'acqua e il cibo vanno sempre somministrati pure con il soldino, pure con il soldino, perché non l'ha detto? Questa locuzione terminale non l'ha detta? Pure con il soldino, perché è questo il significato, pure con il soldino. Quando dice alle persone più deboli, i diritti di tutti si tutelano a partire dal rispetto per gli indifesi, perché non specifichiamo chi sono gli indifesi? Tutti quelli che stanno nel lettino incapaci di intendere di volere, anche quelli, quelli sono gli indifesi, come Luana Englaro. Quindi Luana Englaro è una indifesa, non è neanche capace di parlare, e a tutti i casi come Luana Englaro gli si deve dare acqua e pane, senza specificare, con il soldino. Mai apparsa questa breve locuzione, con il soldino. Mai apparsa... Ah, ma che bello, ma che bello tagliare, spezzare le frasi con la forbice, ma tanto è bello spezzare le frasi. E rispetto degli indifesi, gli indifesi, gli dobbiamo dare l'acqua e il pane, l'acqua e il pane, con il soldino. Con il soldino, però, ma non è mai apparsa la locuzione, con il soldino, con il soldino, perché il popolo, il greggio non deve sapere certe cose, non deve sapere, non deve conoscere la verità fino in fondo. Acqua e il pane, perché quando si parla di acqua e il pane tutti sono d'accordo, ma come? Ma io se avessi la vostra fede, se avessi la vostra fede, di voi cari che credete nel paradiso, nel paradiso, eh, io non vedrei l'ora di morire. Direi, signore, fammi morire il più presto possibile, perché voglio venire in paradiso. E invece voi, sembra che vi interessate di più dei corpi che non delle anime. Sembra quasi che voi non ci crediate al paradiso. E c'è la frase della dottrina cristiana, no? Io l'ho imparata a memoria. Perché siamo stati creati? Siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e goderlo poi nell'altro paradiso. Ma voi avete tenuto l'anima di Eluana imprigionata nel corpo di Eluana? Quando secondo natura? Perché, attenzione, voi, voi, voi cari, voi cari, ci tenete tanto al secondo natura. Tanto è vero che certe cose non vi vanno bene perché dite che sono contro natura? Contro natura, no? E che so, i Pax, i matrimoni dei omosessuali. No, non si può fare perché è contro natura. Ma perché? L'alimentazione col sondino è secondo natura o è secondo scienza? Lo sapete che il vostro filosofo cattolico, uno dei più grandi filosofi cattolici italiani, Giovanni Reale non è d'accordo col sondino, vero? Manco lui è d'accordo. Ma è secondo natura? Allora, certe cose non si possono fare perché sono contro natura. Perché là non vi fa comodo che si possano fare quelle cose là e dite che sono contro natura. Però poi, quando si tratta di altre cose che sono contro natura vi vanno bene perché l'alimentazione col sondino non mi venite a dire che è secondo natura, è secondo scienza. La scienza di Galileo, quello che ha dovuto dire, sì sì, rettifico tutto, è secondo scienza, è secondo scienza l'alimentazione col sondino. Ma allora, e il paradiso? Ma perché? Ma perché volere a tutti i costi che la gente stia in questa valle di lacrime quando voi dite che poi una volta morti ci sarà il paradiso? Ma perché questo interesse prevalente per i corpi anziché per le anime? Cardinale Bagnasco, ma le termini, le frase, le termini, le termine, non spaccatele sempre. Dice non si può togliere, non si può togliere ai più deboli, non si possono togliere cibo e acqua. E tutte quelle bottigliette là che stavano intorno al luogo dove c'era la povera, tutte quelle bottigliette che sembrava che Luana se le potesse bere con il bicchiere? Non è mai saltata fuori la questione del sondino. Ma perché non la facciamo saltar fuori la questione del sondino Cardinale Bagnasco? Ma facciamola saltar fuori questa questione. Ai più deboli non si possono togliere cibo e acqua. Magari anche col sondino, col sondino, diciamolo, diciamolo, non diciamo solo il dolce, diciamo anche l'amaro. Non va bene Cardinale Bagnasco spiegarsi e parlare in questo modo, non va bene tagliare le frasi, non è bello. E il paradiso? Dove lo mettiamo il paradiso? Siete più attaccati a questa terra che non al cielo? Volete tenerci per forza qua, in questa valle di lacrime? Ma siete voi che ci avete insegnato che c'è il paradiso, no? E allora prima ci si va in paradiso e meglio è, no? E la Chiesa cosa se ne fa dei progressi della scienza e della tecnica che allungano la vita? Ma più viene accorciata la vita e meglio è, che dopo c'è la vita eterna. Ma andiamo, andiamo. Un po' di logica, Cardinale Bagnasco, un po' di logica. Pensiamo al paradiso. Pensiamo al paradiso. Il paradiso è più importante di qualche anno di vita in più sulla terra col sondino, col sondino, che il sondino implica tutto, tutto un movimento sanitario, un movimento sanitario, 24 ore su 24. Non è secondo natura, è secondo scienza. La Chiesa non dovrebbe andare d'accordo con queste operazioni qua che allungano la vita e quindi accorciano la permanenza in paradiso. Dovete badare di più alle anime che ai corpi? No? Secondo proprio il vostro tetami. Siete voi che parlate del paradiso, della vita eterna? Allora che cosa gli interessa? Vivere in questa valle di lacrime. Prima uno torna alla casa del padre e meglio è. Va bene, Cardinale Bagnasco, mi raccomando però, nel futuro le frasi le dica tutte intere, non tagliate a metà, tagliate a metà. Va bene? Cardinale Bagnasco, io la saluto con tanta simpatia, saluto con una simpatia molto maggiore i giovani del web e a tutti i cari saluti da Serafino Massoni.